Parla tifoso dell'Azzurra. Oggi abbiamo una notizia calda che promette di scuotere il cuore di tutti i tifosi del Napoli. Il nostro team è sempre alla ricerca di migliorare ancora di più per ottenere i risultati ancora migliori la prossima stagione. E questo significa tenere d'occhio il mercato per trovare i rinforzi ideali. Prima di entrare nel dettaglio di questa notizia esclusiva lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere nessuna novità del Napoli. Pronto! Quindi andiamo! Il Napoli sta esplorando due opzioni forti per rinforzare il proprio attacco la prossima stagione, Artem Dovbic e Romelu Lukaku. Questi due nomi sono sul radar del club per sostituire Viktor Osman, se dovesse lasciare il Napoli. Secondo Luca Marchetti, specialista di mercato di Sky Sport, il Napoli è seriamente in corsa per l'attaccante ucraino Artem Dovic. Anche Romelu Lukaku, attualmente al Chelsea, è una possibilità, soprattutto visto il suo buon rapporto con Antonio Conte. Artem Dovic, giovane attaccante ucraino, si è distinto per prestazioni e potenzialità. Viene visto come una solida opzione per il futuro dell'attacco napoletano. Dobbic è noto per la sua grande fisicità, capacità di trattenere la palla e capacità di concludere con precisione. Questi attributi lo rendono una scelta interessante per sostituire Osimen e mantenere il livello di competitività del Napoli in attacco. Dall'altra parte abbiamo Romelu Lukaku, attaccante esperto che ha già dimostrato il suo valore in diversi campionati europei. Lukaku è una potenza fisica e ha un'eccellente capacità di segnare gol e creare giocate per i suoi compagni di squadra. Il legame con Antonio Conte, con cui ha lavorato all'Inter, è un fattore che potrebbe agevolare il suo approdo al Napoli. L'acquisto di Lukaku dipende però dal tempo e dalla partenza di Victor Osimen, il che potrebbe complicare un po' la situazione. Sia Dovic che Lukaku hanno clausole rescissorie simili, intorno ai 40 milioni di euro, il che rende entrambe le opzioni finanziariamente valide per il Napoli. La scelta tra i due dipenderà da diversi fattori, tra cui la disponibilità di Osimen e la strategia a lungo termine del club. Allora, tifosi del Napoli, cosa ne pensate di questi possibili acquisti? Artem Dobbico Romelu Lukaku, chi preferiresti vedere con la maglia del Napoli la prossima stagione? Credi che qualcuno di loro possa sostituire Victor Osimen e portare la nostra squadra verso nuovi traguardi? Lasciate le vostre opinioni nei commenti qui sotto, vogliamo sapere cosa ne pensate di questi movimenti di mercato. Non dimenticare di mettere mi piace, iscriverti al canale e attivare le notifiche per non perdere nessun aggiornamento sulla nostra amata squadra. Forza Napoli sempre!